Avete delle banane mature? Non vi preoccupate, ho la ricetta che fa per voi. Guardate come si sono annerite. Allora vado a mettere in una ciotola le banane e vado a schiacciarle. Siccome sono tanto mature, userò una frusta. Io userò il mixer della Cercotec, nell'info box vi lascerò il link. E adesso aggiungiamo tutti il resto degli ingredienti. Gli ingredienti li troverete nell'info box. Aggiungiamo un po' di aroma di limone, vanillina, un po' di lievito per dolci, cannella quanto basta, noi abbondiamo perché ci piace, uova, latte, mescoliamo e infine la farina. Per renderli più morbidi, due cucchiai di olio. per non escono. Inoltre per l'evoluzione, meti all'accompanie, mentre nelle платali, e allora meti all'estnico alla fine, mettiamo un po' di fricolo. Aggiungere i alti, i devil, meti all'estnico, e i vengenzi, e i appi all'estnico, e i gantionghi, e i pannici, prendiamo un mestolo e lo versiamo sulla padella qua in superficie compariranno le bollicine il nostro pancake è pronto per essere girato li facciamo poi tutti e ci vediamo dopo a questo punto giriamo e voilà, perfetto meno male condisco con un pochino di sciroppo d'acero e buon appetito se vi va vedete anche la ricetta dei pancake normale con la banana flambe grazie a tutti